Lui no, questo è il dottor Giovanni Giorgetti che qualcuno di voi ha già conosciuto anche in quest'ambito perché ha parlato della raffineria tempo fa e quindi è una persona della quale non vi racconto le sue vicissitudini professionali ma mi piace sottolineare la passione che mette nel realizzare queste cose che di professionale non c'hanno proprio niente, è solo la passione della persona alla quale piace realizzare queste situazioni. In più per l'aviazione, essendo figlio di un avviatore, l'aviazione ce l'ha praticamente nelle mani. Divertitevi. Io vi voglio ringraziare perché qui è un pubblico e te lo c'è, si va, dal mio amico Giorgio Giorgi autore di questo bel libro sull'aviazione che io ho conosciuto a più anni fa mentre fugavamo in una libreria insieme. L'ammiraglio Lucio Matiusi al quale siamo amici ha una grandissima passione che è Gugliano Maggiù. Io sarò sempre a fianco di chiunque sia una persona seria e vuol fare qualcosa per ricordare il libro, i personaggi di libro. Ma perché noi chiamiamo? Marconi nemmeno sanno che è stato al libro. Se te vai al Famedo di Montenegro e dici ma come? Modigliani non è paricino? Ma come Modigliani è paricino? Ragazzi ma scherziamo. Noi non sappiamo valorizzare ciò che abbiamo.